Bene colleghi, l'ordine del giorno rega nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali all'esigenza del comparto difesa, l'audizione di rappresentanti della Simmel Difesa. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e nonché sulla web tv della Camera dei Deputati. Saluto e do il benvenuto all'ingegnere Paolo Reginaldi, amministratore delegato all'ingegnere Antonio Nappo, direttore ricerca e sviluppo, che ringrazio per la partecipazione ai lavori della Commissione, ai colleghi presenti e ai colleghi che parteciperanno alla seduta secondo le modalità stabilite dall'aggiunta per il regolamento del 4 novembre 2020, ai quali rivolgo l'invito a tenere spenti i microfoni per consentire una corretta fruizione dell'audio. Ricordo che dopo l'intervento dei nostri ospiti darò la parola ai colleghi che intendono porre domande o svolgere osservazioni, successivamente i nostri ospiti potranno rispondere alle domande poste. Al proposito chiedo ai colleghi di far pervenire la propria richiesta di iscrizione a parlare al Banco della Presidenza già da adesso. Do quindi la parola all'ingegnere Paolo Reginaldi. Prego, a lei. Buongiorno onorevole Presidente, buongiorno onorevoli commissari. Innanzitutto grazie per l'opportunità dateci come Simmel Difesa di partecipare ai lavori della Commissione e concedetemi, prima di iniziare nel dettaglio che cosa è oggi Simmel Difesa, vorrei fare una piccola digressione storica per quanto riguarda dove nasce Simmel Difesa, perché la storia di Simmel Difesa viene da lontano, dal 1912, in cui la BPD, la Bombrini parò di Delfino, nella zona di oggi dove c'è la città di Colleferro, in sede al primo stabilimento della BPD. La BPD che negli anni è stata uno dei pilastri portanti anche del supporto delle forze armate italiane, ma non solo, perché poi ha supportato la NATO subito dopo il secondo conflitto mondiale per quanto riguarda la fornitura di munizionamento alle forze della NATO. E la BPD nel tempo è mutata, si è fusa con altre realtà, ha acquisito altre realtà che oggi sono l'eredità che ha Simmel Difesa. E' importante sono la SNIA, dove viene le competenze sulla chimica di Simmel Difesa, la Simmel di Castelfranco Veneto, che era la società Industrie Marnati e Larizza di Castelfranco Veneto, dove venivano prodotti sia i corpi e del munizionamento di grosso calibro, 155, che venivano effettuati i caricamenti delle munizioni. La Fratelli Borletti, che invece era dedita alla produzione, progettazione e produzione degli attuatori del munizionamento, attuatori che in gergo tecnico sono le spolette, la parte intelligente del munizionamento. Queste varie realtà sono confluite in poi SNIA BPD. Successivamente la SNIA BPD è cambiata, è diventata Simmel Difesa, agglomerando insieme tutte queste varie realtà e queste competenze. E' passata successivamente alla Fiat fino agli anni 2000, quando poi nel 2000 la Fiat ha deciso di smettere il ramo della difesa, ma come ha dismesso altri rami non strettamente collegati al mondo dell'automobile, quindi è stata venduta a un investitore privato, il quale l'ha tenuta fino al 2007. Nel 2007 Simmel Difesa viene venduta alla Cambring Group, società inglese, che a sua volta aveva acquistato, aveva acquisito contestualmente a Simmel Difesa la MECAR, che è un'azienda in base in Belgio. Nel 2014 Cambring decide anche a sua volta di lasciare il mondo del munizionamento e cede un blocco sia Simmel Difesa che la Cambring Group alla Next Air. Nel 2014 Simmel Difesa diviene parte del gruppo Next Air. Che quindi insieme nel gruppo Next Air ci sono adesso tre entità che si occupano di munizionamento, quindi Simmel Difesa Colleferro, la MECAR in Belgio e Next Air Munition in Francia. Contestualmente all'acquisizione di Simmel Difesa, Next Air procede a una fusione con la Krauss-Maffei Wegman tedesca. Per capirci, la Krauss-Maffei è la produttrice dei PZH 2000 che sono oggi in servizio in Italia e costituisce un nuovo gruppo industriale che è KNDS, quindi che sta per Krauss-Maffei Next Air Defense System, dove oggi Simmel Difesa si inserisce con il filone, chiamiamolo francese, della capogruppo della KNDS. KNDS che è 50%, Next Air 50% della famiglia Wegman che è proprietaria della Krauss-Maffei. Questo importante, tutto questo di piccola digressione storica perché fa capire oggi Simmel Difesa è effettivamente l'erede di tutte le realtà industriali nel mondo della difesa in Italia che hanno fatto anche un po' la storia della difesa in Italia. Quindi oggi Simmel Difesa ha il suo sito principale in Colleferro, la sede storica della BPD e un sito secondario ad Anagni dove ci occupiamo di demilitarizzazione, quindi di istruzione di tutto quello che sono i materiali energetici. Nel sito di Colleferro invece sono rimaste le attività principali, quelle che sono il caricamento di munizionamento, la produzione e la progettazione di spolette, la produzione di polveri propellenti. Ritorno alle competenze. Le competenze perché Simmel Difesa oggi, come detto prima, è erede di tutte queste competenze acquisite nella chimica, nel caricamento di munizionamento, nella progettazione e produzione di spolette. Quindi oggi noi rappresentiamo un po' tutta la filiera della munizione, quindi siamo capaci di produrre dalla Z il munizionamento. Cosa che è stata data in outsourcing nel tempo è la parte dei corpi del munizionamento, quindi tutte quelle erano le lavorazioni di metallo, lavorazioni meccaniche, che sono state date fuori ad alcuni partner strategici localizzati sempre in Italia. Quindi oggi noi produciamo munizionamento, quindi munizionamento che va dai 25 mm ai 155 mm, produciamo, io dico produciamo ma quando dico produciamo dico anche progettiamo, quindi progettiamo e produciamo tutto del munizionamento, quindi dalla parte chimica che sono le polveri di lancio, la parte intelligente del munizione che sono le spolette e tutto quello che riguarda impianti di caricamento di esplosivi. Altra cosa che poi è stata acquisita invece nel tempo è la parte di competenze sulla missilistica. Simmel Difesa è oggi sia a design authority di alcune delle teste di guerra dei missili a ster, come pure degli aspide e come pure di alcune apparecchiature elettroniche di sicurezza ed armamento sempre delle teste dei missili. Quindi collaboriamo per questo con alcuni competitor, scusate, con alcuni player importanti nel mondo della difesa, della parte missilistica, quindi MBDA, uno per tutti, con i quali siamo in stretta collaborazione e cooperazione per quanto riguarda le attività inerenti alla missilistica. Simmel Difesa oggi rappresenta da lavoro circa 160 persone, nel comprensorio di Taccolleferro e Danagni. Una piccola parentesi per quanto riguarda il comprensorio, perché il comprensorio oggi è l'erede della BPD, è in parte di Simmel Difesa e giusto a fianco c'è Avio, che quando fu ceduta, quindi siamo vicini di casa, con cui condividiamo alcuni servizi principali per l'attività quotidiana di produzione. Per quanto riguarda le caratteristiche, nel tempo Simmel Difesa era produttrice, è stata produttrice principalmente di munizionamento terrestre. Nel tempo è stata un po' abbandonata l'attività di munizionamento terrestre e si è dedicata al munizionamento navale, dove oggi noi siamo i leader, perché Simmel produce famiglie del 40 mm, del 76 mm e del 127 mm. siamo fornitori ovviamente della Marina Militare italiana, con la quale negli anni abbiamo sviluppato dei prodotti successivamente anche classificati dalla Marina Militare e ultimamente, quindi ritorniamo negli ultimi dieci anni, a seguito dell'acquisizione di Nextair, dove Nextair invece ha una vocazione prettamente terrestre, è stata una fusione, un gemellaggio quasi naturale, perché c'erano le competenze dell'attività navale di Simmel Difesa acquisite negli ultimi 20-30 anni e le competenze della parte dell'attività terrestre di Nextair. Oggi negli ultimi dieci anni abbiamo ripreso quello che nel tempo era stato un po' abbandonato sulla parte terrestre, ma soprattutto sulla parte dei grandi calibri, dei 155, dove oggi abbiamo ripreso quell'attività anche grazie al rilancio di Nextair che ci ha chiesto di riattivare tutto quello che era dovuto per la famiglia dei 155. Il sito di Colleferro è un sito che occupa circa 100 ettari, diviso, onestamente non ricordo nemmeno quanti sono gli edifici, ma sicuramente più di 100. e il sito di Anagni invece è un sito che occupa circa 50 ettari. Le dimensioni delle attrezzature, degli equipment e di produzione sono importanti perché vengono da un passato del secolo scorso che la Nato aveva deciso insieme allo Stato e al governo italiano di investire fortemente sui mezzi di produzione per supportare l'attività della Nato. Per quanto riguarda le infrastrutture, per quanto riguarda i mezzi di produzione, per quanto riguarda i prodotti, lascio la parola all'ingegner Nappo che è responsabile della ricerca e sviluppo di Simmer Difesa per dare qualche dettaglio in più. Prego, ingegnere, allora, le la parola. Grazie. Cercherò di darvi una fotografia un po' più dettagliata appunto delle capacità tecnologiche e produttive di Simmer Difesa. Simmer Difesa, come ha anticipato l'ingegnere Ginaldi, è una tra le poche realtà presenti sul mercato della difesa che riesce a abbracciare a 360 gradi la vita dei propri prodotti. Infatti noi ci occupiamo dello sviluppo, dell'industrializzazione, della produzione di tutti i componenti e subassieme l'assiamatura degli stessi nel prodotto finito per passare, grazie allo stabilimento dei nagni, anche al disposal, quindi al termine vita di questi oggetti. Tutte queste attività vengono seguite attentamente e vengono sottoposte a diversi test, prove, che svolgiamo anch'esse all'interno del nostro stabilimento di Colleferro attraverso diversi laboratori che abbiamo a disposizione. Ad esempio abbiamo un laboratorio chimico, un laboratorio elettronico e abbiamo anche un centro prove. Centro prove dove è possibile svolgere tutti i test ambientali secondo le normative NATO, anche con oggetti caricati con diversi kit di esplosivo, come ad esempio le teste in guerra. Questa tecnologia fa sì che noi poniamo l'attenzione a tre compartimenti dei nostri prodotti in particolare, quindi parliamo della parte propulsiva e quindi dei propellenti, la parte dei caricamenti degli esplosivi, quindi del design degli oggetti che vengono caricati quindi con gli esplosivi e quindi agli attuatori delle munizioni, chiamate appunto in gioco tecnico le spolette, che sono la parte che trasforma in munizionamento intelligente i nostri prodotti. Per quanto riguarda il propellente, c'è da dire come è capacità produttiva, Simmel Difesa ha un'ottima capacità produttiva, considerare che abbiamo due linee di produzione capaci di lavorare in parallelo per produrre fino a 100 tonnellate di propellente al mese, quindi una capacità molto importante. Parliamo di propellente di diverse tipologie, singola, doppia o multibase, sicuramente sono propellenti standard NATO, ma questi si accostano anche ai nuovi propellenti che abbiamo sviluppato, perché a noi è molto importante, e mi interessa la parte nostra, di sviluppare e dare nuove opportunità ai nostri clienti. Sono nuovi propellenti che tendono ad aumentare sicuramente le performance, la sicurezza e a ridurre l'impatto ambientale. Un esempio per tutti può essere la nuova famiglia di propellenti che abbiamo sviluppato con il nome di RTP, Reduced Toxicity Propellant. Perché normalmente tutti i propellenti attualmente prodotti sul mercato devono rispondere in ambito europeo a riccia. Ma noi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati oltre. Abbiamo sviluppato questa nuova famiglia che sottolineo è sotto brevetto mondiale, perché siamo stati la prima società che ha sviluppato propellenti privi di qualsiasi elemento cancerogeno e privi di elementi tossici sia per l'uomo che per l'ambiente, ambiente al quale poniamo molta attenzione. Per quanto riguarda invece i caricamenti di esplosivi, c'è da dire che la capacità produttiva di Simmel si distingue in ambito europeo dal proprio impianto per caricamento per scolaggio, quale penso sia l'impianto con la più grande capacità di caricamento che troviamo in Europa. Infatti nel nostro impianto di caricamento per scolaggio possiamo arrivare a caricare fino a 3.000 kg di esplosivo al giorno. Parliamo di esplosivi standard, tipo TNT o composizione B. a questa capacità produttiva va sommata quella dell'impianto di caricamento per compressione, sul quale raggiungiamo quantità pari a circa 700 kg al giorno di caricamento. Anche in questo ambito abbiamo speso tante risorse e abbiamo sviluppato dei nuovi prodotti che vengono chiamati nella famiglia di esplosivi insensibili. Sono esplosivi che eliminano la possibilità di reazione involontaria durante il ciclo vita dei prodotti all'interno dei quali carichiamo. Infatti questi, uniti a speciali strutture, fanno sì che il nostro munizionamento assicuri una maggiore sicurezza ai nostri clienti, all'utilizzatore finale. Faccio un esempio. Se consideriamo un esplosivo standard caricato dentro un munizionamento di medio-grosso calibro sottoposto ad un incendio ad esempio in un deposito, questo tende a detonare con la formazione di una forte donda d'urto e frammentazione che può creare danni a cose e persone. Il nostro munizionamento insensibile, invece sottoposto a un incendio, tende semplicemente a bruciare senza alcuna proiezione di frammenti. Capite quindi il grosso impatto che c'è dal punto di vista della sicurezza e può essere sia durante il ciclo vita che operativo. Un altro esempio può essere l'attacco di uno sniper. Munizionamento di piccolo calibro, sparato contro un munizionamento in medio-grosso calibro, tende a farlo detonare con le conseguenze del caso. Il nostro munizionamento insensibile, invece, viene attraversato da parte a parte. Noi abbiamo fatto questi test, secondo normative standard, che prevedono come un munizionamento di piccolo calibro, il 12,7. Quindi senza alcuna reazione. E capite quindi anche in questo caso, dal punto di vista operativo, qual è il plus che riusciamo a dare ai nostri clienti. Infine c'è la parte quella lì delle spolette, che diciamo è l'elemento intelligente dei nostri prodotti, che trasforma il munizionamento standard in munizionamento intelligente e polivalente. Questo, all'interno di questi prodotti, noi mettiamo dentro tre conoscenze, sono tre discipline che distinguono Singmel da tutte le altre società, perché abbiamo tutte e tre in casa, ossia quella della pirotecnia, quella della meccanica e quella dell'elettronica. La pirotecnia che assicura l'innesco in totale sicurezza durante tutto l'utilizzo del nostro munizionamento della carica quella di principale. La disciplina meccanica assicura la sicurezza nell'utilizzo del nostro munizionamento, che tende ad innescarsi soltanto sotto a certe ben determinate solicitazioni, solicitazioni tipo quelle lì del tiro. E qui parliamo di meccanica fine, per capirci è meccanica tipo gli orologismi di precisione. E infine c'è l'elettronica che permette di assicurare al nostro munizionamento l'utilizzo polivalente in diversi scenari operativi. Un esempio può essere una delle ultime spolette che abbiamo sviluppato. Questo tipo di spoletta è una spoletta programmabile contactless in automatico, durante il caricamento automatico, che permette di assegnare alla munizione molte, molte possibilità di utilizzo. Tale soluzione ha dimostrato di essere un'ottima soluzione da difesa, ad esempio nel campo aereo, sia per applicazioni navali che terrestri. Quindi ha dimostrato di poter difendere i nostri clienti sia ad esempio da attacchi di aerei militari, elicotteri militari, missili, ma così come anche nel campo navale da baffini veloci, baffini veloci che possono essere utilizzati ad esempio in caso di attacchi terroristici in una via guerra. E infine anche contro droni. Qui parliamo di diverse tipologie di droni. Abbiamo dimostrato la nostra efficacia contro i droni standard militari che tutti conosciamo, i micro droni che possono anche essere utilizzati sotto forma di sciambe per attacchi, tre postazioni e infine contro i droni suicida meglio conosciuti come lottering munition. Tutte quante queste quindi tecnologie vengono riversate nel nostro catalogo di prodotti e come diceva l'ingegnere Ginaldi varia tra munizionamento terrestre per applicazioni terrestre e per applicazioni navali. In particolar modo se andiamo un po' più nel dettaglio del nostro prodotto terrestre noi produciamo munizionamento da fanteria come le granate da 40 mm o bombe da mortaio da 81 e 120, munizionamento da carro da 105 e 120 mm, munizionamento da artiglieri anche qui da 105 mm e 155 mm. E vorrei sottolineare che il nostro munizionamento può essere utilizzato su tutti i sistemi NATO, infatti in servizio in diversi paesi NATO, sistemi NATO come ad esempio il Pizzata dell'Accademia della Clos Morfei sistemi NATO da 155 e da 105 costruiti dall'HPU gruppo francese Nextar System. Per quanto riguarda il munizionamento navale nulla da aggiungere a quello che ha detto l'ingegnere Ginaldi. Siamo leader per quanto riguarda il nostro posizionamento per munizionamento standard per il 40, 70, 76, 62 e 127 mm, quindi diciamo l'artiglieria navale. La nostra tecnologia viene riversata comunque anche in ambito europeo per attività di ricerca e sviluppo. Ad esempio Simmel fa parte del consorzio che con il progetto Fives ha vinto proprio quest'anno uno degli utili bandi dell'European Defense Agency che riguarda lo sviluppo di munizionamento d'artiglieria del futuro che si è concluso proprio come tender quest'anno. Oppure partecipiamo anche insieme a blasonati istituti universitari italiani, anche ad alcuni tender in campo aerospaziali. Per concludere la panoramica vorrei aggiungere soltanto che tutte le teste di guerra che noi abbiamo sviluppato e ci tengo a dire che abbiamo sviluppato e che produciamo in casa. Alcune di queste sono caricati con quegli esplosivi insensibili che poc'anzi vi avevo detto e che sottolineo esplosivi insensibili che costruiamo anche in casa e produciamo in casa. Compriamo le materie prime e siamo gli unici in Italia che producono questo tipo di munizionamento e di esplosivo in casa nelle teste di guerra applicate nelle teste di guerra e in alcuni tipi di munizioni. E infine per quanto riguarda la nostra presenza nel campo della missilistica produciamo anche diversi tipi di meccanismi safendarm per missili che ne assicurano quindi la sicurezza durante il trasporto, l'uso, lo stoccaggio e quindi durante tutto il ciclo vita dei stessi missili. Con questo concluso Ingegnere vuole aggiungere? Prego. Volevo, sufficientemente prima di concludere lasciare spazio a osservazioni o domande che la commissione aveva volevo aggiungere alcune informazioni riguardo Simmel Difesa. Quindi Simmel Difesa oggi rappresenta circa un 50 milioni di fatturato di quali circa il 10% è fatto con l'amministrazione difesa italiana. ha un impegno che vale oggi intorno al 10% del fatturato come investimenti in ricerca e sviluppo e in processi industriali. Cosa che probabilmente verrà accresciuta nei prossimi anni per uno perché le richieste della capogruppo in quanto le competenze di Simmel Difesa sono necessarie alla capogruppo per effettuare alcune attività ma soprattutto anche per un'attività di rinnovamento continuo degli impianti che volti all'automazione dei processi in ottica anche Industria 4.0 lasciatevi in termini in cui c'è sempre più relazione e correlazione tra i processi digitali e i processi fisici. In tutto questo l'attività di Simmel Difesa è autofinanziata cioè ovviamente il capitale utilizzato per gli investimenti è tutto di Simmel Difesa questo perché a parte un caso nella storia che abbiamo avuto un PNRM approvato per la Marina Militare ultimamente facciamo un po' fatica ad avere di finanziamenti a partecipare ai PNRM in quanto nonostante i nostri progetti di sviluppo ricevano la più alta votazione e quotazione dal punto di vista tecnico chiaramente le clausole passatemi il termine di dual use o in cui c'è necessità adesso per come prerogativa nei piani di sviluppo è chiaro che difficilmente si sposino con attività di munizionamento quindi è chiaro che in questo abbiamo un po' di difficoltà nell'accedere a questi finanziamenti volevo aggiungere l'ultimo l'ultimo punto è la Nato perché la Nato storicamente è stata Simmer Difesa BPD è stata parte importante della Nato oggi continuiamo a esserlo perché a seguito di una gara fatta da livello Nato Simmer Difesa è stata giudicatece della fornitura per i paesi membri della Nato della famiglia del munizionamento del 76 mm quindi oggi se uno stato membro fa riferimento all'agenzia acquisti della Nato la NSPA acquista munizionamento da 76 di Simmer Difesa l'ultimo punto è che il far parte di un gruppo che è franco tedesco come le due componenti importanti con due appendici una a nord che è Mekar una a sud che è Simmer Difesa è una leva importante per noi in quanto ci inserisce bene in un sistema oltre che il sistema paese anche con un sistema della difesa europea che secondo me è quello che domani bisognerà guardare bene anche dal punto di vista delle strategie italiane ho concluso grazie un ringraziamento ai nostri uditi per quanto relazionato certamente utile ai lavori della nostra commissione io do adesso la parola ai colleghi e ne ha fatto richiesta l'onorevole Russo prego grazie per l'interessantissima analisi per la relazione sul vostro gruppo e mi domandavo appunto la vostra produzione si caratterizzi innanzitutto appunto per per cannoni navali e per munizionamento anche terrestre pensavamo a 155 che è appunto il calibro del PZH tuttavia mi è piaciuto e sono rimasto colpito soprattutto dalla parte sul munizionamento anti sciami di droni e soprattutto contro l'eroe delle munitions per quanto riguarda invece la produzione da parte vostra visto che voi vi occupate anche della progettazione e dello sviluppo anche di tutta la componente del munizionamento ma anche di una parte missilistica pure volevo chiedere a che punto è nella vostra azienda lo sviluppo delle munizioni circuitanti o dei proiettili intelligenti perché appunto sono il futuro immagino che siano anche di grande attenzione vostra grazie grazie le onorevole russo adesso dà la parola all'onorevole Ferrari prego le ringrazio presidente anche io ringrazio i relatori e non ho una vera e propria domanda ma una considerazione che nasce dalle appunto dalla loro illustrazione dal fatto di aver portato a conoscenza la commissione del loro lavoro del fatto di come avete voi detto di essere un'azienda a circuito chiuso che svolge ogni attività del processo industriale fino anche al demunizionamento dei dei proiettili scaduti quindi da questo punto di vista e la considerazione è legata al fatto che essendo il nostro paese un importante produttore di piattaforme soprattutto per quanto ci riguarda è rimasto nel settore della navale e speriamo di magari riacquisire più capacità per quanto riguarda il il corazzato mentre blindato abbiamo mantenuto questa questa capacità la possibilità che voi offrite attraverso un gruppo che comunque è di proprietà franco-tedesca però la possibilità di offrire oltre al sistema paese di offrire oltre alle piattaforme anche il relativo munizionamento è un elemento importante cosicché nel momento in cui le nostre aziende di punta si presentano sui mercati internazionali possano davvero competere con tutti quelli che sono gli elementi che caratterizzano le piattaforme stesse perché andare a offrire un prodotto navale che ha spiccate caratteristiche innovative grandi capacità ma poi magari non avere l'elemento che essendo una vita guerra le deve caratterizzare rispetto all'altro naviglio può essere un limite e quindi mi sorge ecco la domanda partendo da questa riflessione quali sono i vostri rapporti con i nostri principali player e quindi mi riferisco da una parte ai Vecodefense per quanto riguarda la produzione di blindati e dall'altra parte a Fincantieri per quanto riguarda la produzione di navi militari o poi il consorzio avevo detto il Vecodefense o il consorzio CIO per quanto riguarda la produzione di blindati grazie grazie onorevole Ferrari io non ho altre richieste di intervento pertanto dalla parola ai nostri ospiti prego ingegnere rispondo all'ultima domanda lascio la domanda dell'onorevole Russo all'ingegner Nappo che devo dare esattamente tutti i dettagli allora parliamo delle piattaforme noi oggi per quanto riguarda il navale siamo in stretta simbiosi con Leonardo la quale a sua volta è in simbiosi con Fincantieri quindi oggi la cooperazione con Leonardo è stretta cioè il munizionamento navale di Leonardo è prodotto insieme a Simmel Difesa quindi questo noi ci siamo questa fa parte di una di quelle sinergie a livello paese che devono essere agevolate e auspicate dalla politica quindi oggi e con Leonardo ci muoviamo tutti i mercati insieme tendenzialmente e proponiamo soluzioni insieme per quanto riguarda i sistemi di munizionamento quindi sotto quel punto di vista è a mio avviso è un ottimo esempio di capacità nazionale messa al servizio sia del paese Italia ma anche per uscire fuori in competizione con altri per quanto riguarda le piattaforme invece terrestri Simmel oggi non c'è su quel settore ovvero ci proponiamo ma sempre spesso e volentieri con Leonardo per cercare di trovare un punto di incontro anche sul munizionamento terrestre con i Vego Defense no onestamente non abbiamo queste relazioni anche perché i sistemi poi alla fine d'arma cui noi lavoriamo non sono di origine di Iveco Defense dove fa tutto diciamo lo chassi la parte l'hardware la parte software lasciatemi passare il termine è elaborato da altri quindi noi lavoriamo con i sistemisti d'arma per quanto riguarda le piattaforme internazionali quello diciamo prima il fatto di poter far parte di un gruppo franco tedesco aiuta una capacità nazionale in questo caso di sim e difesa ad essere competitiva nello scenario europeo principalmente perché KNDS ha una vocazione fortemente europea e quello che dicevo prima era il sistema della difesa europea deve essere fatto passando da una capacità nazionale da utilizzare nel migliore dei moti per poi poter andare a un sistema della difesa europea il fatto che di avere oggi in casa i due maggiori produttori europei di sistemi terrestri noi ci agevano perché il munizionamento di sim e difesa di Next Air è un munizionamento che può essere utilizzato indifferentemente sia sui sistemi d'arma francesi che sui sistemi d'arma tedeschi quindi un esempio come diceva prima l'ingegniannappo di alcuni le cariche di lancio del 155 prodotte in sim e difesa sono omologate su PZH2000 sistema d'arma tedesco comeppure altre tipologie di colpi sono omologate per quanto riguarda i sistemi d'arma francesi quindi essere parte di un gruppo europeo con due sistemi diversi agevola sicuramente le discussioni per una possibilità di un sistema paese messo al servizio di un sistema europeo lascio grazie allora dal punto di vista del munizionamento intelligente sim ma il difesa è molto avanti noi come dicevo abbiamo grossissime competenze da questo punto di vista abbiamo sviluppato dei sistemi che potremmo definire come delle miniaturizzazioni di sistemi molto più grandi e complessi un esempio che le posso fare è il munizionamento dotato di caratteristiche di prossimità se abbiamo la possibilità di intercettare durante il volo i nostri bezzagli con una sorta di riflessione che può essere paragonabile a quello che fanno i radar tanto invece di farlo con una postazione fissa lo facciamo con un munizionamento in volo che vola anche a mille metri al secondo quindi la tecnologia che abbiamo sviluppato fa sì che il nostro munizionamento possa essere definito intelligente anche perché questo tipo di munizionamento come vi dicevo noi abbiamo preso negli ultimi anni una forte una forte impronta nell'ambito navale ambito navale che ci ha messo davanti negli ultimi anni davanti ad ostacoli tecnologici importantissimi faccio l'esempio questa elettronica che noi abbiamo deve difendere la munizione dal jamming avversario ma anche dal jamming amico considerate sopra una nave di quelle moderne da guerra sopra che ci sono circa 40 radar poi immaginate che tipo di emissione a cui è sottoposta la nostra munizione la nostra munizione ha dentro tutto un sistema di elaborazione dei dati che quindi riesce a detettare qual è il suo ritorno e qual è il bersaglio identifica il tipo di bersaglio che ha e può determinarne l'utilizzo e il tipo di funzionamento quindi da questo punto di vista siamo molto avanti ma non ci vogliamo fermare a questo stiamo cercando di mettere a punto anche nuove soluzioni che possono essere anche munizioni nel quanto riguarda il campo del guidato e quant'altro quindi da questo punto di vista simile a molto avanti ma nel futuro sarà presente ancora di più nel munizionamento intelligente sicuramente bene grazie io non ho altri iscritti a parlare pertanto ringrazio l'ingegner Reginaldi e l'ingegner Nappo per per la disponibilità partecipare ai nostri lavori della commissione ringrazio tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione grazie grazie grazie